Adesso vi lasciamo con un altro classico della musica italiana sempre di Battisti Il nastro rosa rivisitato da noi Il mondo è diventato un giorno che aveva riportato il passato Quando già credevo esserci riuscito, sì, sì, capito La frase ciò che non voglio dare il tuo senso Il mondo è un mondo meglio adesso Il sì, il mondo è un po' di soli, sì, il sole è stato mio Chissà, chissà di sé, chissà che sarà Chissà che sarà di loro Lo scomrieremo solo di vento Adesso vi lasciamo con un altro E questa avventura sta diventando la gloria Adesso vi lasciamo con un altro che sei alcune vere che mi fai molto conosci come lo scelgo di respirare io sei solo è passare questa parte mia è messa di due mia casa con la vita e non vorrei aver pagato la mia spesa con la mia sposa che sa chi sa chi sei chi sa che sarà chi sa che sarà di noi lo scopriremo solo di me e troppo e adesso con la paura pura che è nostra avventura sta divertendo tuttoria vera spero tanto sia sincero chi sa che sei chi sa che sei chi sa che sei Chi sa chi, chi sa chi, chi sa che s'amarei, chi sa che sarai di noi. Lo scopriremo, lo vivendo, non vi darei su un po' paura. Perché questa avventura sta rinunciando la storia vera, spero tanto sia sincera. Allora, noi vi salutiamo e adesso vado a presentare la nostra band, elemento per elemento perché se lo meritano e sono dei grandi. Allora, cominciamo dal motore della nostra band che per l'occasione ha preso le banchette di Natale. Le può usare solo qua perché sull'altra batteria le rispa. Il motore della band One Machine, One Man. Ligga, Giulio, Paolo, Marco, Drenner, Valenti. Allora, cominciamo dal motore della band che per l'occasione ha preso le banchette di Natale. Allora, cominciamo dal motore della band che per l'occasione ha preso le banchette di Natale. La mano sinistra del diavolo, from Potenzano, on the rhythmic guitar, mister Alessandro Calistani, un bel applauso! Allora, cominciamo dal motore della band che per l'occasione ha preso le banchette di Natale. Adesso vogliamo presentare il nostro bassio. Meluniere di nove di fa, che tratta i meloni perché lascio qui a che fare con i meloni. Quindi, signore, guardate attenti che stanno facendo le cose. Allora, con l'occasione della band che per l'occasione ha preso le banchette di Natale. Allora, con l'occasione della band che per l'occasione ha preso le banchette di Natale. Allora, con l'occasione della band che per l'occasione ha preso le banchette di Natale. Allora, con l'occasione della band che per l'occasione ha preso le banchette di Natale. Landestre San maneuverazione fossi le banchette di Natale. Allora, con l' россamenco e la band che per l'accionazione è di morire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.